Scongiurare la chiusura della sede barlettana del Tribunale, questo è l'obiettivo degli avvocati di Barletta che hanno voluto incontrare il commissario prefettizio Anna Maria Manzone. Ci troviamo di fronte ad un serio problema, la perdita della sezione staccata del Tribunale di Barretta che premetto è stata da più parti dichiarata che è un'eccellenza sia per la qualità degli operatori che per la posizione logistica e che per la sua stessa struttura che chiaramente è una struttura tra le migliori che abbiamo nel foro di Trani, chiaramente questo comporta una grave perdita. Ma una grave perdita che va a intaccare anche il discorso economico e sociale della città. Tutte le economie avranno un gravissimo danno per questa cosa qua. Al termine dell'incontro tenuto a Palazzo di Città il commissario ha comunicato che provvederà nelle prossime settimane entro la scadenza prevista per fine mese ad espletare tutte le formalità per ottenere una proroga per evitare la chiusura del Tribunale. Dovrebbe bastare la formalizzazione della domanda al Presidente del Tribunale per ottenere una proroga di altri 5 anni previsti dalla legge. A quel punto la copertura economica sarebbe a carico del Comune di Barretta che non rinugierebbe a una struttura così importante per tutta la comunità. Ha le problematiche inerenti, ha il fatto degli sfratti, i danni. È veramente un dramma dove noi quantomeno dovremmo avere il tempo per far sì che questo possa avvenire in un tempo ancora più lungo. Questa è la necessità. Grazie. Grazie.